Gran bella vittoria degli All Blacks in rimonte e poi finalmente questi All Blacks si ricompattano è tornato San Filippo addirittura, tita oggi grandissima vittoria tra l'altro stavate perdendo e poi grazie anche a un talismano Livigni che si è nominato Spinaci Livigni ma infatti io mi ero incazzato perché non veniva e quindi mi sono tornato e abbiamo vinto ok gran bella vittoria, forse è la più bella che c'è da quando si inserirà anche perché è l'unica vittoria forse che non vieni mai infatti si vede quando vengo vinciamo io non c'ero e state basta litigare allora qual è stata bellissima vittoria perché perdere 4-5 in G5-4 sia per il morale sia per i risultati ottimi l'elemento chiave di oggi a parte Livigni che è stata l'operazione di tutta la squadra l'operazione di tutta la squadra e poi Franci che ha appunto fatto la triple e anche Franci Livigni che col suo arrivo ha dato la compattezza della squadra sul 4-0 però ci credevate ancora oppure magari ci crediamo sempre anche sul 4-0 hanno fatto due gol di rimpalli un autogol e un rimpalli e noi ci mangiai un sacco di gol quindi la partì è sempre stai equilibrato all'inizio abbiamo avuto più sfortunità e poi in secondo tempo abbiamo giocato per i enti solo e soltanto ce l'hanno fatto forse un tiro in porto in secondo tempo veramente per i conti bene bene il vittore sono meritato manca solo da recuperare di Giuseppe marzo è recuperato perché oggi è il suo compleanno ah va bello la festa stasera quindi è giustificato prossimo turno Bulla Boys sì non ci sono amici nostri parla con loro come mai? io sono in viaggio ah quindi faccio di capitano affidata a chi? faccio di capitano è da decidere è da decidere va bene allora bisogna scuotere comunque i tuoi ragazzi perché la partita è importantissima va bene e oggi il migliore in campo non lo chiedi e allora chi è il migliore in campo dai non lo so ragazzi no prestazione supermatica della squadra io un'idea ce la chiedo la diciamo ma per me è deciso di Filippo hanno giocatamente bene e poi cotta la squadra comunque ok ci vediamo alla prossima ragazzi grazie ciao ciao